A Teramo continua ad allarmare la situazione legata alla violenza nel centro della città. Sono stati tre gli episodi gravi dell'ultimo weekend sui quali polizie e carabinieri stanno indagando per chiarire le motivazioni e la dinamica dei fatti. Venerdì sera la prima aggressione ai danni di un artigiano pensionato che è riuscito ad allontanare con un coltellino due giovani, presumibilmente nordafricani, dopo essere stato colpito da calci e pugni per la mancata concessione di una sigaretta. L'episodio più grave si è verificato sabato mattina in via Capuani, dove un 54enne è stato accoltellato da due ragazzi sull'uscio di casa. In questo caso la polizia ha ascoltato due giovani che potrebbero essere coinvolti nella vicenda. A distanza di qualche ora, attorno alle 14, un giovane è stato costretto a rifugiarsi in un bar per sventare un'aggressione. I fatti che sono successi nelle ultime ore impongono e ci hanno imposto una attenzione particolare. Ho già avuto modo di sentire il questore che ringrazio, tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Una situazione che deve assolutamente portarci ad innalzare il livello di attenzione, tenendo conto che si tratta di fatti che purtroppo oggi riguardano tutte le città abruzzesi e italiane. Ciò, come dicevo prima, non deve assolutamente indurre a sottovalutare, ecco perché c'è un confronto costante con tutte le forze dell'ordine per tenere la situazione in uno stato di tranquillità e sotto controllo perché ovviamente queste situazioni non possono diventare costanti. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere per chiarire la dinamica dei fatti. Negli ultimi mesi nel centro della città sono stati intensificati controlli ed è stata aumentata la copertura del sistema di videosorveglianza, ma la situazione resta allarmante. Ho già attivato un confronto interno con le forze di polizia locale e con il dialogo con tutte le forze dell'ordine. Quindi si sta lavorando assolutamente nella massima attenzione con le forze dell'ordine che stanno svolgendo correttamente e puntualmente il loro lavoro. Abbiamo potenziato per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione il sistema di videosorveglianza che ovviamente è funzionale a un'attività di prevenzione, di controllo e repressione di queste situazioni, di incremento delle forze di polizia locale. Non basta mai, dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione ovviamente pretendendo che ci siano però risorse che vengono messe a disposizione dei territori. Grazie. 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 Grazie.